Eternità, che punti a eternità Per lasciare andare Arisa, perché la notte è ovviamente in lunga, grazie Un ultimo applauso, con un selfie, con tutti voi dietro, grazie Tutti insieme, dai! Grazie Arisa, buon 2018 Ciao, grazie! Grazie mille per essere stata qui con noi Benevento e incanto di Natale e Capodanno Wonder Company, adesso non andate via perché la musica Adesso riparte alla grande, iniziamo a scaldarci Poi tra poco anche un po' di samba e effetto mezzanotte Ovviamente abbiamo avuto una mezzanotte molto live